Continuano le polemiche dopo il post pubblicato dal ministro dell'interno a seguito dell'episodio che si è consumato sabato sera a Ferrara. Durante un normale controllo avvenuto nella zona della stazione, uno spacciatore inseguito da un carabiniere è stato investito da un auto. Subito è stata diffusa una falsa notizia che parlava della morte del giovane e proprio questa è stata la causa che ha scatenato il caos nel quartiere Gad, dove in pochi istanti un gruppo di oltre 40 nigeriani ha dato vita a una guerriglia urbana. Il sindaco della città confida che l'arrivo di Salvini possa risolvere concretamente la situazione e non sia solamente una strategia per ottenere consensi dagli elettori. Siamo in campagna elettorale, se viene il ministro Salvini e ci dà una mano a risolvere questa questione, molto volentieri, sono anni che lamentiamo questo fatto. Se c'è una volontà ferma di riportare nei loro paesi coloro che vienono le regole, mi trovano in prima linea. Se c'è una volontà solo di fare della speculazione politica e mediatica, per carità, nessun problema anche da questo punto di vista. Dopo il grave episodio, il quartiere è tornato a quella che può essere considerata la sua normalità, ovvero area di spaccio, ma i residenti della zona, che da anni sono testimoni di situazioni più o meno violente, si dicono preoccupati per quanto accaduto due giorni fa. Nel giro di pochissimi minuti è passato questo tantam e sono arrivati subito a mettere un po' a ferro e fuoco il quartiere. E questa è la cosa grave, che è la dimostrazione che in effetti c'è un controllo da parte di questi gruppi del territorio. Qui bisogna mettere in campo delle cose consistenti. C'è il famoso poliziotto di quartiere, qui ci vuole un presidio fisso.